In Italia ci sono 6 milioni di imprenditori che non si vogliono rassegnare e che non si aspettano di essere salvate dalla politica, ma vivono da protagonisti la sfida di ogni giorno. Per loro abbiamo realizzato un ambiente favorevole. Grazie allo Statuto delle Imprese, approvato all'unanimità dal Parlamento, le aziende italiane tornano a respirare. L'IVA di Cassa permette di avere maggiore liquidità e pagare così lo stipendio di oltre 9 milioni di lavoratori. La deducibilità delle perdite sui crediti toglie una tassa sulle perdite. 3.000 imprese hanno ottenuto il riconoscimento giuridico quando unite in rete. E finalmente anche la pubblica amministrazione, che deve ai suoi fornitori i 70 miliardi di euro, dovrà rispettare il termine di pagamento di 30 giorni. Grazie al suo lavoro sul credito, il Popolo della Libertà ha permesso che su 1.000 imprese che chiudono, 300 si salvano. Avete visto dei fatti, non delle parole. Le imprese chiedono fatti, ma innanzitutto chiedono una cosa. Meno burocrazia, meno lacci, meno Stato, più possibilità di essere protagonisti della propria vita e della vita di un Paese. Facciamo sì che la politica continui a fare questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.